ciao ciao creatura ciao creatura benvenuta in questo nuovo puntata di sfogliamo insieme il catalogo Lidl oggi con smalto tutto rovinato allora a sottoprezzi da noi i prezzi sono sempre bassi tornelli 1 0 7 a domenica 7 0 7 ci sono anche i sapori della cucina francese allora qui ci sono varie offerte le uniche che dico valide da comprare secondo il mio punto di vista sono il gran pesto che questo qui di culio è il mio preferito della star e il prezzo 1,49 euro è buono e c'è quello peperoni e noci che è buonissimo ma il più buono di tutti è radicchio spec io infatti l'ho già comprato prima ancora che partisse l'offerta l'ho trovato a Lidl e l'ho presa tanto che l'offerta anche c'è c'era già insomma che li stavano mettendo via e gli ho detto posso prendere la TX ma ha detto si si vai pure via ho preso io aspetto sempre che arrivino a Lidl perchè li mettono sempre in offerta e lo stra amo e poi qui ha queste sfoglie croccanti sono buonissime che costano di solito 99 e li hanno messi a 75 sono veramente sfiziose una della l'altra come il genieggio questo toccio schiuma di solito nei negozi ha 250 ml la confezione costa molto di più quindi io ti dico il peggio è molto buono soprattutto questo con la confezione nera non perchè era confezione nera ma perchè è molto perchè queste sono profumazioni diciamo standard da fagno schiuma e questo invece ha una buona profumazione speziata di 099 che sono poi qui ci sono molti gelati in offerta giustamente perchè è estate quindi ci sta ma proseguo finché non vedo qualcosa di particolarmente buono come offerta Ecco qua che abbiamo scopri i sabori raffinati della cucina francese da lunedì 1-7 quindi ci è iniziato abbastanza però vabbè torta flambè con meli, cannella, pancetta e cipolle io prenderei pancetta e cipolle a 1,99 euro torta flambè con formaggio e pancetta o con patati, formaggi, riclette e pancetta a 1,99 euro torte salate praticamente poi palline e patate a 1,49 euro con uova da allevamento all'aperto e contorno per ogni piatto mini antipasti con uova da allevamento all'aperto, spiziosi e invitanti a 3,49 euro mini gratin, gratin con capofiori, patate o con carote, zucchine e broccoli a 2,49 euro poi torta salata con cipolla e pancetta, 2,39 euro ce l'hanno con la pancetta mi sta a mettere ovunque, torte salate, pasta sfoglia, farcita con preparazione a base di porro e creme non so come si lega o pasta brisì o pasta brisì o pasta brisì con quella crema lì pancetta e rosciutto a 1,99 euro lo manchi per cotte a 2,99 euro alla porcignone se l'ho detto bene a 2,79 euro peti 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 prie 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 peti prie formaggio francese apposta mole di latte pastorizzato a 2,99 euro formaggio fresco di latte caprino pastorizzato a 1,99 euro camembert e eccetera eccetera formaggio pasta mole 2,19 euro poi perchè ho fatto la settimana francese e non so pronunciare neanche un nome questo formaggio formaggio pasta mole di latte vaccino pastorizzato a 2,49 euro formaggio saporito e caratteristico 1,79 euro formaggio francesi selezioni di formaggi tipici 2,49 euro c'è un uccello che come verso strano non so se lo senti comunque biscotti frullini ecco questi mi prenderei solo per la confezione infatti sono cari sopra la confezione di latte che hanno bellissima a 3,49 euro senape francese senape francese a 0,79 poi qui abbiamo un vino bianco secco si accompagna bene con piatti a base di frutti di mare a 2,49 euro specialità a base di figli della Provenza 1,79 euro salamini di suino 1,69 euro un altro vino a 2,99 euro e un altro vino un vino bianco secco da abbinare ad un buon secondo di pollo o di crostacee 4,99 euro poi scopri i sapori raffinati della cucina francese e abbiamo i macaro 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 prelibatezza della pasticceria francese con uova dal levamento all'aperto a 3,49 euro gusti misti mi pare se non erro cioccolato caffè pistacchio questo poi non si riesce a leggere e passion fruit raspberry and lemon questi comunque crepe dolci aromatizzate la vaniglia wow 1 euro 79 e dessert torta cioccolato crema al limone 1,69 euro biscotti con ripino lampone limone o fragola con uova dal levamento all'aperto 0,99 euro cran caramel con salsa allo zucchero caramellato con uova ad allevamento a terra 1,29 euro poi qua ci dice che su leaderviaggi.it si può prenotare 24 euro su 24 euro in tutta sicurezza si possono prenotare dei viaggi in francia a nizza parigi normandia bretagna i castelli del insomma il tour qua anche i viaggi prenoti da lì cioè va tutto praticamente poi c'è pollice verde e abbiamo quelli piccoli a 2 euro 99 la legale a 4 euro 99 la stella egiziana wow 1 euro 99 queste a 12 euro 99 piante verde a 4 euro 99 questa si chiama pinkiesis 1 euro 49 il giro sole a 7 euro 99 ma sono minici da soli questi comunque no non è vero oh c'è anche viaggio tra i sapori italiani da oggi da giovedì 4 07 quante cose ti faccio vedere visto allora abbiamo la pizza cacio e pepe buonissima è una pizza bianca con formaggio pecorino romano top grattucciato e pepe nero a 1 euro 79 questa te la consiglio poi c'è la pizza con caciocavallo silano top questa non l'ho mai associata a 2 euro e 49 poi c'è il cascione farcito con prosciutto cotto mozzarella a 1 euro e 49 panzerotti burra danduia a 1 euro e 29 mai assaggiati il lardo a 1 euro e 49 salame piacentino top 1 euro e 79 poi c'è il provolone falpatana top piccante a fette a 0,99 gramigna che pensavo fosse solo una pianta ma è anche un tipo di pasta evidentemente a 0,42 mi fa voglia poi auricola sarta grossa non l'ho mai vista mai provata ad aggustare con fungoli a 0,99 a 0,99 amarene bruschetti modena icp a 1 euro e 99 gelato al caramello con sale dolce di cervia scusami con pistacchio verde di bronte top a 1 euro e 79 ma che figata condimenti spray questi abbiamo visti anche l'altra volta a 0,99 bruschetta con olio d'oliva non l'altra volta una volta fa o su instagram forse bruschetta con olio d'oliva aglio olive rosmarino un gusto pizza a 0,79 condimento crema alle gime di rapa aglio olio e peperoncino oggi olive e mandorle wow 1 euro e 29 succo italiano alla siciliana alla toscana alla calabrese 0,99 poi qua c'è scritto i prodotti italiani selezione cambero rosso ah triangoli pasta fresca con mozzarella pomodoro e olive taggiasche 1 euro e 29 paccheri o cala calamarata 0,99 maccheroni alferretto o strozza preti 0,99 gelato la nocciola 1 euro e 69 guanciale 1 euro e 49 caciole fargito con pietola spinaci mozzarella 1 euro e 49 e ticella romagnola ticella l'ho mangiata a 1 euro e 19 poi qui abbiamo estate fashion guarda e ci sono dei set di orologi braccialetti da donna salubet t-shirt da donna canotto da donna jeans super skinny da donna ciabatte da donna polo slim fit da uomo t-shirt da uomo shorts sportivi bermuda jeans da uomo salvapiedi i piedi da uomo se sono i piedi i calzini di cordini tipo i fantasmini da uomo da donna scarpe sportive da uomo e un tutorial di spray per scarpe l'hanno messo solo dagli uomini però attenzione è un chiaro messaggio che vi puzzano i piedi scherzando puzzano tutti i piedi se su ti esci e se vivi praticamente mi spiace al top shorts mare da uomo borsa mare per fortuna non ho messo un borsa già non ho messo da uomo da donna che a me non piace le distinzioni se mettevano anche borsa mare da donna mi arrabbiavo per fortuna ho messo la borsa mare con da donna ovviamente occhiali da sole per donna ma scusami vabbè anche gli occhiali sono che sono unisex gli occhiali io credo ecco c'è la crema illuminante piedi e gambe a 1,49 euro mia mamma ha detto troppo bella la voglia illuminante mi ha detto ma cosa vuol dire ti luccicano le gambe dopo enti io io sì poi c'è gel rinfrescante piedi e gambe io mi prenderei di più questo rinfrescante più che illuminante già sono bianca 1,49 euro short in jeans da donna carini questi però 6,99 euro tanto vale comprarsi un paio di pantaloni a 2 euro al mercato italiane cioè i jeans però vabbè non fa nulla recisino picchini a triangolo da donna picchini a fascia slip picchini vabbè insomma in giro in giro in giro tutto per gli amici a quattro zampe e ci sono i bocconcini per cani non sguardo tutte cose per cani ma c'è anche per pappagallini o per canarini croccantini per gatti wow questi vorrei prenderli a sem ci sono i trickles 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 snack con tacchino con merruzzo questi li prendo li prendo anche qui crispy crunch superfood snack con anatra e aronia si dice aronia non so cos'è o tacchino e semi di chili prendo o tacchino e semi di chili 39 top bellissimi croccantini per gatti sterilizzati dove prenderli quelli probabilmente poi ci sono questi i bocconcini superpremio tonno e pesce bianco e tonno e pollo wow sfilaccetti solo pollo o tacchino e caro prenderei tacchino e carote wow collare antiparassitario questo è bello cioè questo è utile e importante 3,89 euro piscina per cani già voglio dire non ce l'ho neanche io la prendo al cane che non ho piscina per gatti no lettino per cani con parasole mamma mia che belle cose guinzaglio per cani borsa trasportino per animali poi c'è un set per la lettatura di animali domestici lo shampoo per cani neutro salviette mille usi con antibatterico poi ci sono dei giochi per cani eccetera eccetera poi c'è passione auto ma non ci interessa alla lupo che è la macchina che avevo prima di questa avevo preso gli set che ho preso i sedili per auto sono durati un sacco dopo con il sole si sono tutti spiaditi un peccato vabbè adesso oh che cos'è questo telecamera dash cam full ht 3 megapixel wow il set supporto smartphone per auto è interessante 9,99 euro poi anche questo kit di pronto soccorso mi ispira parecchio 3,99 euro utile per lo sport e il tempo libero o in viaggio custodia compatta con tutti gli strumenti indispensabili sarebbe anche da tenere in casa sinceramente se succede qualche emergenza sia il kit power bank con un compressore e addirittura allora qui c'è fai da te la zona che piace a mio padre ma noi abbiamo già tutte queste pinze queste cose questi utensili le tue scarpe apposto giù che bello questo porta scarpe girevoli telescopico ma è bellissimo è solo che non sarà un casino installarlo per 42 a 48 paia di scarpe sarebbe perfetto per mia madre che ha più mille piedi ha più scarpe che altre cose scarpe a tre scomparti scarpe da porta bella anche questa salva spazio questa questa è un po' un comprantino in mezzo alle palle quel tubo lì però questa è salva spazio bene mi piacciono le cose intelligenti poi ordine e pulizia lava, superficie, vapore accessori accessori per la pulizia accessori per il buccato c'è sto biancheria cassetta piccola in tipo per lui e per lei ma sono in cotone 100% cotone non sarà tutto microfibra il peudino c'è la licra non c'è scritto c'è scritto un mini slip ma non c'è scritto non lo so 93% cotone non c'è scritto niente per il presto credo che non siano in cotone cioè ci sarà una piccolissima parte quindi niente non compratele mi dispiace comprate solo intimo soprattutto quello che va sotto in cotone se è possibile 100% se no un 93% accettabile si vuole un minimo di elasticità anche comunque però qui abbiamo offerte valide da sabato 6 a domenica 7 luglio quindi è super weekend e c'è prosciutto crudo prosciutto crudo 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 mi ciano ricciano top le mandorle la spremuta sarà buona questa è buonissima è quella 100% solo frutta si non dovrebbe neanche avere lo zucchero questa dovrebbe essere proprio solo spremuta se non sbaglio ma leggete sempre le tigliette poi c'è l'acqua minerale in offerta no me la andrò a prendere allora un sabato domenica perché io la bevo tantissimo e sta in offerta quindi perfetto si è messi di quei due gratis ok il video è finito spero che ti sia piaciuto e ti abbia fatto rilassare soprattutto ti sia stato utile è sempre bello guardare con te le cose che ti fanno voglia o che sono in offerta quindi possiamo comprare e fare affari e grazie per aver visto questo video buona settimana buona fine settimana praticamente e noi ci vediamo martedì con un nuovo video o fosse una live non lo so seguimi su instagram per restare sempre aggiornata se quando farò una live lo dirò lì ciao creatura ciao creatura ciao creatura buonanotte 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 ciao creatura Grazie.